E' morto in un inferno di fuoco il camionista di 40 anni che martedì sera attorno alle 20.30 è sbandato con il suo auto articolato contro il guardrail dell'autostrada ribaltandosi, innescando una serie di esplosioni e spezzandosi in due. Una scena apocalittica quella che si è palesata in prossimità del viadotto autostradale che dalla corsia nord della 14 si si affaccia sul quartiere pesaresi di Santa Veneranda. Boate ripetizione, fiamme accecanti e colonne di fumo oltre al potenziale pericolo per i residenti del quartiere che hanno visto cadere dal ponte pezzi di lamiera roventati. Sedare il ruogo è stato uno sforzo considerevole per le cinque squadre di vigili del fuoco di Pesaro e Fano intervenute con 17 uomini. In fiamme, lamiere, pneumatici e rifiuti umidi all'interno del mezzo pesante adibito al trasporto di immondizia. Il corpo senza vita del camionista è stato ritrovato dopo lo spegnimento del ruogo. Si tratta di un quarantenne residente in Romagna e, secondo le indagini, è incappato nel sinistro fatale in maniera autonoma senza il coinvolgimento di altri veicoli. L'incidente ha creato code in autostrada con la chiusura del tratto Fano-Pesaro per il completamento delle operazioni di spegnimento delle fiamme durate per ore.